In Piazzetta Mosca, fra i tavoli della casetta Vaccai, mostrando il calendario di Pesaro Capitale della Cultura 2024, linea di demarcazione fra un anno di grandi preparativi che si chiude e un anno di celebrazioni e progetti da mettere a terra. Riflessioni e bilanci che il sindaco Matteo Ricci mette sul piatto nella consueta conferenza stampa di fine anno. Ma alle spalle abbiamo avuto un grande lavoro, è stato un anno molto produttivo, abbiamo lavorato tantissimo in preparazione della Capitale della Cultura, abbiamo lavorato tanto sulle opere pubbliche, sulla progettazione per il PNRR e abbiamo mantenuto un bilancio molto sano e con un occhio particolare, con una valenza particolare rispetto ai temi della solidarietà, perché abbiamo continuato ad investire sul sociale, sui servizi educativi, sulla cultura senza aumentare le tasse e con un indebitamento bassissimo. Quindi siamo molto soddisfatti di come è andato il 2023, anche per il grande gioco di squadra che insieme alla Giunta e alla maggioranza abbiamo messo in campo, non ci sono divisioni, non ci sono conflitti, c'è grande sintonia e armonia tra di noi e così ovviamente si lavora meglio a servizio della città. Ad entrare nell'anno capitale è anche una Pesaro città-cantiere. Per fortuna abbiamo attratto tantissimi milioni di euro di investimenti pubblici e tanti cantieri stanno partendo e ovviamente questo crea anche qualche disagio, però la città sarà una città-cantiere in trasformazione, ma tanti cantieri, anche quelli che ci hanno fatto maggiormente faticare, arriveranno a termine. In particolar modo inaugureremo il 29 di febbraio l'Auditorium Scavolini, il vecchio Palasport e entro la fine di marzo inaugureremo complessivamente l'Interquartieri di Muraglia, l'Interquartieri Sud che diventerà strada Berlinguer e già la prima settimana di gennaio avrà aperto il primo tratto tra la Celletta e la Baratruf. Premesse importanti per un anno da capitale della cultura che Ricci vorrebbe diventi opportunità unica per tutti i cittadini. Auguro un 2024 gioioso a tutta la provincia di Pesaro Urbino, auguro a tutti di viverlo in questa maniera perché questa capitale può essere un'occasione per valorizzare quello che siamo innanzitutto e per dimostrare che le cose più belle nel nostro paese non sono per forza nelle grandi città ma possono vivere in realtà di provincia come la nostra. Quindi mi auguro che tutti possano vivere con gioia questo 2024 e anche con grande determinazione perché se ognuno di noi farà la propria parte appunto i benefici li avremo per tanti anni in particolar modo per le nuove generazioni.